Alla di Gran Paradiso, siamo a Borgodale, la via è bella, parrucchiera, eccoci qua, entriamo dentro, buongiorno Serena, tutto bene Serena? Siamo in zona rossa Piemonte, siamo effettivamente messi un po' maluccio, perché io ho guardato in giro, non c'è proprio un'anima viva, non c'è circolazione, non c'è niente. Come la stai vivendo questa zona rossa piemontese? Ma guarda, siamo pieni di preoccupazioni, perché non si capisce bene se i contagi sono altissimi, se sono bassi, un giorno dicono una cosa, un giorno dicono un'altra, quindi la viviamo giorno per giorno. La tua clientela è sicura e tranquilla al 100% perché sappiamo che le parrucchiere sono effettivamente dei luoghi sicuri come molti altri, però la fortuna delle parrucchiere è non essere state chiusi, giusto? Sì, giusto. Quindi la tua clientela comunque si sente sempre sicura? Sì, perché quando entra misura la febbre, segniamo tutto, all'inizio facciamo firmare un foglio che non avevano avuto dei contatti con chi aveva avuto fobido, eccetera, ci sono le barriere. Segui le regole al 100% giustamente. Due persone ogni ora, adesso ancora peggio, siamo ancora più restrittivi per questa situazione. Ok, la tua clientela ha capito bene che può venire comunque da te anche se sono residenti in comuni diversi da Borgodale, basta l'autocertificazione? Allora, certi sono resti perché non credono, però io dico di far firmare un foglio che scrivere che giorno, tot ora hanno l'appuntamento, ho scritto che devo fare un servizio alla persona e quindi tanti vengono, altri che non si sentono sicuri non vengono. Giustamente, una cosa che volevo chiederti, la cura e la bellezza del corpo, giustamente, tanta gente chiusa in casa dice che cosa mi faccio la piega fare che tanto sono chiusa in casa, ma tu devi dare un po' di coraggio alle persone, anche se siete chiusi in casa, la piega va fatta, giusto? Giusto. Il sabato sera fate una serata a film, ma per il marito anche, che ti vede tutta trasandata, dice no. Ma anche per quando ti guardi allo specchio, passi davanti allo specchio e dici ah sono bella comunque, sistemata, certo, magari non è l'affluenza di venire tutte le settimane, però i trattamenti, la ricrescita, i capelli. Ok, ci va un po' comunque di allegria, ci va un po' di buon umore in questo tempo così triste, giusto? Allora, Serena, una particolarità del tuo negozio è, vogliamo dirlo, ricordarlo? Il 4D color. Ok, vuoi spiegarlo mentre siamo così in diretta video? Certo, è una sfumatura che va dal più chiaro al più scuro, i capelli rimangono bellissimi, lucenti e dura per sei mesi, uno viene solo a ripassare il suo ritocchino, è multifromatica e... Facciamo un po' di pubblicità alla via e vai, dai, dove sei? Borgo d'Ale, via centrale, via Matteotti numero 19, diamo il telefono, 345-2172-965. Perfetto, ti possono seguire su Facebook, su Instagram, ci sarà poi anche la pubblicità a parlare. La via e bella, via Vito Serena. Perfetto, ok, senti, la domanda la faccio un po' tutti quanti, quest'hashtag andrà tutto bene, tu come lo vedi? Certo che andrà tutto bene, bisogna essere positivi, per forza, se no, se pensiamo al negativo andrà tutto male. Andrà tutto male, dai, grazie Serena, io ti ringrazio, ti saluto, un saluto a tutti quanti, dai. Ciao a tutti! E ricordatevi, basta l'autocertificazione, potete anche venire dai paesi vicini, giusto? Sì, giustissimo, grazie mille. Grazie mille, ciao! Ciao!